E' una specie di realtà sospesa quella che vive Napoli in questi giorni. Dopo i festeggiamenti mancati in casa al termine del derby contro la Salernitana, i partenopei trattengono il fiat a ogni occasione in cui loro e i beniamini possono aggiudicarsi il titolo di campione d'Italia, giocando o meno, come ieri sera quando gli azzurri di Spalletti hanno tenuto d'occhio fino all'ultimo secondo Lazio-Sassuolo direttamente da Udine. Non solo tifosi del Napoli, questo tocca fare ai supporter azzurri tifare per altre squadre per poter finalmente coronare un sogno, vincere il tricolore che manca ormai da 33 anni all'ombra del Vesuvio. Prima tifosi dell'Inter, domenica scorsa poi è toccato tifare Sassuolo ieri sera, oggi però il cuore sarà solo azzurro. Sì, perché oggi è il giorno giusto, è quel giorno in cui gli uomini allenati da mister Spalletti non possono sbagliare, pareggiare o battere l'Udinese a casa sua e salire su quel carro che attende ormai da troppi anni altri vincitori, che non siano i vari Bruscolotti, i vari Reni, i Cagli Alemà o i Maradona, nomi che i tifosi azzurri conoscono a memoria, ma c'è un'altra poesia da imparare, la si deve imparare già stasera per evitare psicodrammi esistenziali. Quando i leoni di Spalletti scenderanno in campo a Udine, i tifosi azzurri si godranno la partita allo Stadio Maradona, sui maxi schermi allestiti ad hoc per essere idealmente vicini alla squadra. L'idea del presidente Aurelio De Laurenti si è stata accolta con grande entusiasmo dalla gente. Sono 50.000 i biglietti già staccati, 5 euro l'uno, più 600 biglietti speciali per la tribuna Posillipo al costo di 100 euro l'uno, per entrare nell'impianto di fuorigrotta da dove dovrebbero muovere i festeggiamenti per il tanto agognato terzo scudetto. La giornata di oggi è anche un dire no da parte delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, delle tantissime persone che hanno partecipato anche a questo presidio, a una ristrutturazione selvaggia di questo settore. Il settore è quello delle telecomunicazioni, scosso dalle intenzioni del colosso Win3 di creare due società distinte, scorporando l'infrastruttura di rete con la relativa cessione a fondi di investimento. In una mobilitazione nazionale anche a Napoli, in piazza lavoratori e sindacati per dire no allo spezzatino e ai probabilitati del personale. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha individuato 40 immobili ad Ischia dichiarati come prima casa, riconducibili a soggetti solo formalmente residenti sull'isola. Attraverso approfondimenti partiti dall'analisi dei dati anagrafici sulla popolazione residente nel comune di Ischia, i militari della locale compagnia hanno individuato 40 immobili indicati come prima casa, risultati però a disposizione di altrettanti proprietari stabilmente residenti in altri comuni della Campania e del Lazio. Presentato in anteprima a Napoli, 30 anni di cinema Ponticelli, che racconta l'esperienza e l'impegno di Arcimumi, storica associazione napoletana che da più di tre decenni porta avanti la passione per la settima arte. La presentazione è avvenuta nel cinema Teatro Pierrot di Ponticelli, zona est di Napoli, che negli anni 90 è stato al centro delle battaglie di volontari e attivisti di Arcimumi affinché non diventasse l'ennesimo supermercato. Torna alla stazione marittima il Green Med Symposium, l'appuntamento con la svolta green, il rinnovabile e l'ambiente. Dopo il taglio del nastro, l'apertura dei lavori con la videopartecipazione del ministro Picchetto Fratin e poi l'arrivo del sindaco Manfredi, che ben conosce il valore di questa sfida e fa così il punto della situazione in città. È una sfida difficile, però io vedo che stiamo andando nella direzione giusta perché la consapevolezza dei cittadini e la qualità dell'amministrazione sta nettamente migliorando. Presentato all'antisala dei baroni al maschio angioino, Neapolitan Edu Power. Il primo progetto educativo e formativo sulla cultura musicale antica e classica napoletana, ideato e promosso dall'impresa sociale Yes Crea, in partenariato con il Comune di Napoli. Ci dice di più il direttore artistico Pasquale Amato Fierro. È un progetto che intende e ha l'obiettivo di avvicinare i giovani alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado alla cultura musicale napoletana antica e classica.